Ciao a tutti Doggy, io sono DoggyColor e oggi ragazzi siamo di nuovo, di nuovo, di nuovo per la cinquantesima volta, non si sa bene perché qui ci sia una macchina, vabbè, siamo di nuovo con Mary Ann Sto reg, sto reg, salutate Siamo con Mary Ann e Ellie, la fidanzata di Giulio Allora ragazzi, vorrei prima di tutto ringraziare Mary Ann e Ellie Sono molto contenta che siano qui Saluto EvaKent0812 E ragazzi, vabbè, sinceramente, siete in troppe, in troppe, in troppe e salutarvi tutti ogni volta Seguite Doggy, sì, grazie E con noi ragazzi mi sono dimenticata di un passaggio molto fondamentale Con noi c'è Tony, ciao Tony Ciao ragazzi, lo stavo aspettando di dire ciao Da un'ora ma io continuavo a parlare Qui c'è Mary Ann E non si sa bene dove sia finita l'altra Andatelo a seguire Andatelo a seguire se non l'avete già fatto Ragazzi perché ve lo diciamo una volta Cioè queste volte perché allora Praticamente non sono riuscita a fare quello dei 200 Perché quando volevo registrarlo eravamo quasi ai 300 Appunto siamo quasi 300 iscritti Quindi ragazzi come speciale farò subito quello dei 300 e non quello dei 200 Perché sarebbe uno spreco di tempo Quindi ragazzi aspettatevi per i 300 iscritti Un nuovo video e un nuovo speciale ragazzi ASMR Spero vi piaccia Non direrà tantissimo perché se no poi Quindi ragazzi spero vi piaccia Siete in tantissimi Vi faccio soltanto capire Praticamente ragazzi Noi non siamo in un... Aiuto Nessun server privato Niente Stiamo soltanto facendo un video in un server normale Che è tutto occupato dai nostri fan E dei fan di Mary E di Ellie Eccola qui Ellie Bellissimo il suo outfit E anche dei ragazzi fanno perché comunque ogni volta Ogni tanto tempo che capitiamo Un ciao No ma praticamente Praticamente andiamo Dove? Praticamente ragazzi Io vorrei dirvi una cosa Ovvero Come dire Abbiamo fatto entrare tutti questi fan noi Perché senza La nostra Come dire Senza la nostra Ma che è successo qua? Aiuto Ehi Che è successo? Ah Mi sa che sta facendo una cosa strana Mary Ann Per far sì che possiamo andare soltanto io Te e Mary Ann Lì sopra a parlare Non ho molto capito Ah ma ha scritto Ellie TP Quindi Che vuol dire? Eh ma noi non abbiamo la sua vicissà Quindi non so se Vediamo anche noi Che senso TP? Scusate per l'ignoranza Ma Che vuol dire? Teleportati da Usa il Teleport Bando in France Ma io lo posso usare Lo sai? È dalla E io non lo ho Non lo posso Eh no Usa usalo Perché lei sta continuando a scrivere TP Dalla family Intelligence Ma stai nella family Assia Vabbè ma anche l'altra gente Ma si può tipare Oddio la nostra fan Anche amica Ha indovinato il colore Bravissima Lei si chiama Mary Non si ha indovinato il colore Mi sono perso qualcosa Non lo so Manco io sinceramente Mamma mia Bravissima che hai indovinato Mi complimento Mi complimento Sono un po' male In che senso? Ma seria? Ma no Andiamo a giocare a Piggy Sì vai No Sì No Perché no? Dai andiamo Andiamo E perché? Non possiamo essere qui Un attimino No perché andiamo a giocare Con Mary Ann Noi Con Mary Ann e Ellie Noi solo Però non ho capito male Non lo so Però non voglio dire Una stupidaggine Da doggy Che vuol dire da doggy? Io ho indovinato Che senso? Da doggy Non ho capito molto bene Perché da doggy? Ok ha scritto Andiamo su Piggy Lei ha scritto sì Quindi magari c'è Credo che C'è C'è Talamicizia Così possiamo venire Mary andiamo Allora Ah è vero Io non posso No spero Non ho molto capito bene La situazione Ragazzi Qui c'è Noi Noi non possiamo Praticamente entrare Possono entrare Soltanto loro due Perché nessuno Allora Aiuto Alla loro friend Non so neanche parlare Comunque ragazzi Un secondo Perché controllo Se magari una delle due Alla friend Magari una nostra fan Ma non penso E noi che Ness Ness Ecco Te l'accetto Ho accettato una friend Abbiamo Qui Allora Un attimo Che stanno scrivendo In un prossimo video Tony e Eli Tony e Doggy 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 Ellie Ellie Ci vuole aggiungere Allora Di amici Così giochiamo Con loro No Ma Eli Si chiama Georgines Scusate per l'ignoranza Perché No Ellie Ellie E quella E quella con E quella con il cappellino Rosso Si Sul gioco Si chiama Georgines No ragazzi No E quella che ha appena lasciato Il server Ragazzi un attimo Non ho capito più niente Is the least Ma io non c'ho amicizia Scusate Idem No Non ho capito No La friend Mary Noi non possiamo entrare Fatto Cosa ha fatto Non ho capito niente Non c'è la data La friend Ellie Né Ellie Raga venite Ma dove Ragazzi Non sto capendo più niente Mi capo in un attimo Perché vedo da Un altro mio dispositivo Se magari Ci sono Nelle richieste Ma no Non ci sono Aspetta Sta mandando Può essere che Ci sta mandando La friend Ti attorno Poi Ok Va bene Ok 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 Quindi per entrare Sulli Su Piggy Mary Si Ops Il problema è un altro Oddio 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 No Non fare Cos' Che bello Vedere Mary In teleport Madonna Ti voglio bene Il problema è il seguente Ragazzi Ora noi come dovremmo fare Perché ora i fan Si teletrasporteranno No Ma no Perché credo che andiamo In un server Privato Non so A me non l'ha mandata Però Oddio Sì Ma Sì Ma comunque Io ti stavo dicendo Potevi anche Teleportazione Docky Ti immagini Che tipo Ha detto che poi Ce la leva Quindi Ce la leva Ok ragazzi Un attimo Ok ragazzi 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 Aspettate Aspettate Iscrivetevi al canale Tappate la campanella Lasciate tantissimi like Ragazzi Noi ci vediamo su Piggy Al prossimo video Ciao ragazzi Io vi adoro Oddio Adoro Ciao 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 Andiamo su Piggy